A Perugia ancora oggi tanti lo ricordano bene, difficile dimenticare un uomo di quella tempra, nonché un cristiano dalle virtù proclamate oggi eroiche da Francesco, prima tappa del processo di beatificazione che si spera si concluda presto, innalzando alla gloria degli altari Vittorio Trancanelli. Nato a Spello nel 44, la biografia parla di un brillante medico scampato per miracolo ad una letale peritonite, pochi giorni prima che nascesse il primo figlio. Vittorio rimane menomato per sempre da un'iliostomia, con disagi e dolori quotidiani, di cui sa soltanto la moglie, Lia. Nell'ospedale, dove lavora come primario di chirurgia, è un professionista appassionato e instancabile. In famiglia, invece, ben presto arrivano in adozione o in affido altri sette bambini, di cui alcuni disabili. Questa esperienza assegna anche altre famiglie, loro amiche. Nasce così l'Associazione alle Querce di Mamre, dedicata a famiglie e soprattutto bambini in stato di necessità. Vittorio è anche un appassionato di lingua ebraica e di studi biblici, coi quali nutre la sua fede cristiana e l'amicizia con molti ebrei. Un'altra grave malattia, però, lo consuma per sempre in soli tre mesi. Muore nel 98 a Perugia, già circondato da quella fama di santità che oggi ha avuto una parziale, sì, ma significativa conferma.